Carissimi, sono particolarmente felice di poter partire con questo progetto IA. Gli anziani rappresentano una fascia di popolazione fondamentale in Italia con tanta voglia di vivere, di stare insieme e di divertirsi. Con il nostro progetto riusciremo a divertirci, svoiando anche movimento e attività fisica così importanti di questa età. Grazie quindi a Roberto Messina e a tutto il segno d'Italia per avermi convolto. Non vedo l'ora da partire. Yeah, young again.